Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Io sono Ilaria e parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro posso aiutare ognuno di voi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio andare a vedere oggi sono le previsioni per l'autunno 2021 per il segno della riete. Vi ricordo comunque che sono letture generali fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere tranquillamente che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che vi serve e quello che no, semplicemente lasciatelo all'universo. Vi ricordo inoltre che per avere un messaggio più completo è consigliabile andare a dare un'occhiata anche al vostro segno ascendente e il segno lunare. Bene, ma cominciamo. Andiamo a vedere quali saranno le energie generali per quest'autunno 2021 per il segno della riete. Allora, 5 di coppe. 5 di coppe mi parla di un'energia dove comunque c'è un certo tipo di dolore. Quindi è come se ci fosse da elaborare quello che è una perdita, che potrebbe essere una perdita di tipo finanziario, una perdita di tipo emotivo o una perdita proprio di tipo pratico, diciamo. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa dicono i tarocchi. 3 di coppe. 3 di coppe mi parla di un'energia di incontro, di celebrazione, cavaliere di spade e il sole. 8 di coppe, 6 di denari e la regina di spade. Come dicevo, il 3 di coppe mi parla di un'energia di incontro, di un'energia di celebrazione, può anche essere un re incontro. Comunque un'energia tra amici, diciamo, è un'energia che comunque mi indica un certo tipo di divertimento. Per quello che riguarda la prima parte di ottobre, per qualcuno c'è, potrebbe essere che arrivi una persona. Non so se una persona da un punto di vista romantico, scusate, o una persona da un punto di vista, magari potrebbe essere un familiare, un amico, insomma. È una persona che non è sempre molto presente, diciamo, nella vostra vita. È una persona che un po' si dà e un po' no, va e viene. Comunque potrebbe anche essere una situazione per qualcuno che ha un'energia molto irruenta, molto forte, molto veloce, direi. E sembra proprio che questa energia debba in qualche modo esplodere, fare un po' esplodere quello che è la natura, diciamo, del bambino interiore che è dentro di voi. O potrebbe essere che qualcuno, ad un certo punto, diciamo, verso la metà di ottobre, senta questa esigenza di darsi un maggiore ascolto. Potrebbe anche essere con lotto di coppe che ci sia un allontanamento. Questo allontanamento può essere di tipo fisico, quindi letteralmente cambiare casa o per qualcuno potrebbe essere anche un posto di lavoro, quindi, o cambiare città di residenza. Per qualcun altro invece potrebbe essere il cercare di allontanarsi da una persona o da quello che sono determinati tipi di pensieri. C'è comunque questo bisogno di cercare, avere e creare un certo tipo di equilibrio, ok? Il sei di pentacoli mi parla proprio di quello che è giusto dare, di dare ma dare il giusto, ok? Mi parla comunque anche di generosità, quindi in un certo senso di apertura del cuore. Dopodiché abbiamo la regina di spade, il cavaliere di coppe e la torre, che la torre giustamente è sotto questo otto di coppe. Quello che mi viene da dire è che c'è qualcuno che deve effettuare un certo tipo di scelta da un punto di vista puramente logico, razionale. La regina di spade mette proprio in evidenza quello che è la parte razionale, la parte logica, la parte strutturale. Non c'è sentimento in lei, è tutto calcolato. E mi viene anche fuori poi la carta del cavaliere di coppe, che normalmente indica quello che è l'innamorato. Quindi potrebbe essere che arrivi un'energia o che l'energia che si abbia con questo innamorato porti a questa torre, a questo cambio drastico e repentino, che con la regina di spade, mi viene da dire, sia necessario fare. Ok? Normalmente l'energia della torre è un'energia che arriva in modo brusco, è un qualche cosa che non ci si aspetta e il più delle volte può portare anche a del dolore, perché comunque appunto è un cambio che magari non è determinato da noi, è un cambio voluto dall'universo, dal destino o da altre persone, più semplicemente. E quindi sono cambi che destabilizzano. La giustizia. C'è in un certo modo una sorta di giustizia in quello che vi sta succedendo, ok? Può essere che ci sia qualcosa che venga a galla, può essere che ci sia appunto un appoggio di tipo divino, fante di coppe e asso di spade. Può essere comunque che ci sia un equilibrio, diciamo, delle forze, di quello che è magari quello che vuole il cuore da un lato e quello che vuole la mente dall'altro. Vedo comunque che c'è un nuovo tipo di energia, diciamo, potrebbe essere verso dicembre, fine novembre, così che arriva. È un'energia molto più acerba, è un'energia anche un po' inconsistente, potrebbe essere per qualcuno una persona più giovane o comunque con determinate differenze di tipo culturale o sociale, ma questa persona con la quale vi confronterete, con la quale avrete un dialogo, vi porterà comunque un certo tipo di chiarezza mentale, ok? Ci sarà quello che è mettere in ordine i propri pensieri, dargli una struttura e da lì poi con il re di pentacoli ci sarà quello che è una comprensione maggiore, una maggiore pesa di posizione in quello che è la vostra situazione, in quello che è il capire questo, questa situazione, ecco. Quello che vedo comunque è che ricollegandoci a questo cinque di bastoni ci sono comunque dei conflitti che portano un certo tipo di dolore, i conflitti possono essere portati da questa regina di spade e da questa torre comunque, c'è il bisogno di allontanarsi da un qualche tipo di sofferenza, ma io vedo che entro la fine dell'anno comunque ci sarà un maggiore potere personale per quello che riguarda questo tipo di situazione. Bene, voglio ancora andare a dare un consiglio, queste sono le carte delle fatine, wow, il consiglio delle carte delle fatine è non condizionamento, quindi non fatevi condizionare da quelle che sono le idee degli altri, i pareri degli altri, le credenze limitanti che vi sono state inculcate, cercate di fare una pulizia, una scrematura tra quello che è veramente veramente importante per voi, ancora un paio, wow, non so se avete visto come è saltata via, esteriorizzazione, ecco qui mi parla in un certo senso di far capire agli altri quello che voi avete dentro, questa chiarezza mentale mi può dire che è giusto che avere un dialogo e cercare di capire ecco come stanno andando le cose, qual è il punto di vista dell'altra persona, l'ultima carta per il segno dell'ariete per piacere grazie, ecco la co-creazione, ecco co-creazione, creare con, quindi quello che mi viene a dire che voi con Dio siete o l'universo siete i creatori della vostra vita, quindi cercate di creare il modo di gestire determinati tipi di situazione oppure cercate di creare le situazioni in cui voi volete stare, volete vivere insomma. Bene, questo è quello che ho per il segno dell'ariete per quest'autunno 2021, io spero davvero che in qualche modo la lettura abbia potuto aiutarvi, illuminarvi, darvi qualche spunto su cui riflettere, se è sì iscrivetevi al canale, mettete un like al video e condividete, io vi ringrazio tanto per il tempo trascorso insieme e vi mando un abbraccio, ci vediamo presto, ciao ciao